Va avanti il presidio dei lavoratori interinali attiva rimasti senza occupazione. Va avanti la richiesta di attenzione da parte delle istituzioni e del rispetto che meritano 69 padri di famiglia che hanno atteso per anni che quel contratto a tempo determinato diventasse finalmente una certezza indeterminata. Noi per autofinanziarci, stamattina abbiamo creato dei gruppi e ci siamo messi a vendere le mimose senza chiedere niente di che, abbiamo chiesto ad offerta, abbiamo riscontrato una buona partecipazione del cittadino, dei cittadini e niente, questo è solo perché questa baracca purtroppo c'è i suoi costi e noi siamo rimasti tutti, c'è chi è rimasto senza disoccupazione, chi non c'ha più lo stipendio, chi non c'ha più niente. Qual è il punto della situazione? Voi avevate fatto diverse richieste, voi avevate chiesto la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, è arrivato un no dalla Corte dei Conti. Adesso come si prosegue? Scherzare con 67 padri di famiglia che non sanno più dove sbattere la testa non è una minaccia, parliamoci chiaro, questa non è una minaccia, non è un avvertimento, è soltanto un dato di fatto. Scherzare con 67 padri di famiglia che non sanno più dove sbattere la testa comincia ad essere un pochino pericoloso perché loro giocano ancora sul fatto del tirocinio, quindi non vorremmo che questo fosse un gioco per coprire tutta l'estate e poi alla fine di questo tirocinio tutti a casa, tutti amici, tutti felici e contenti. Questo non esiste. Il 16 marzo ci sarà un incontro all'Aurum proprio per parlare di questa situazione? Sì, c'è una scolaresca di Montesilvano, l'istituto tecnico Alessandrini che per un progetto di lavoro con il professor Baldassarre hanno voluto convocare questa assemblea, questa riunione che si terrà il 16 all'Aurum. Saranno presenti loro, ci sarà l'assessore di Iacomo e ci saremo noi come una rappresentanza di noi e si parlerà proprio di questa questione di attiva e questo è un modo per ringraziare anche loro perché si sono interessati alla nostra vicenda.